Siamo all'interno del Monumento all'Indio Questa è la scala e questo è quello che si vede dal monumento Ora, non sono arrivato fino a su non sono arrivato fino a su perché altrimenti mi cagavo un po' quindi si vede solo riesco a vedere solo questo lì c'è il ponte guardate il ponte però vi faccio vedere quello che è avete presente questa anche a volte bisogna ammettere di che non si ha il coraggio ecco a salire su per di qua a salire su per di là e a salire ancora per su per di là però insomma qua non c'ha nemmeno i cosi, i graditi per esempio io aiuto vabbè però lo devo ammettere lo devo ammettere lo devo ammettere non l'ho fatta ma che scala è questa però è fichissimo ho aspettato un'ora per vedere questo è fichissimo è che è che è